Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo incontro di Libri Nudi. Sono qui con noi Francesco Costa, vice direttore del Post e autore di Una Storia Americana, e Igor Pagani, responsabile della saggistica di Mondadori. Lascio subito la parola ai due protagonisti che ci racconteranno l'ultimo volume di Francesco Costa, dalle sfide appunto che attendono la nuova presidenza di Joe Biden e la vice presidenza di Kamala Harris, al lavoro che riguarda un po' appunto il dietro le quinte. Io mi silenzio e vi lascio subito la parola e buon incontro a tutti voi. Grazie mille, grazie mille Costanza. Presento io Francesco, dico due parole in più di quelle che ha detto Costanza, vice direttore del Post e noto a tutti, autore di due libri, perché prima di Una Storia Americana c'è stato il suo esordio fortunatissimo che è stato Questa è l'America, entrambi i volumi sono stati più volte ristampati, è appena uscita l'edizione Oscar di Questa è l'America, è una bellissima edizione con dei risguardi, con delle bellissime mappe, quindi anche chi ha la prima edizione consiglio di acquistare la seconda. A parte gli scherzi ringrazio lo spazio Formentini a cui sono personalmente molto legato perché Giacomo Papi che lo dirige è stato il mio primo, io ho fatto lo stage in una casa editrice che adesso non esiste più dove Giacomo era direttore editoriale, la mia formazione è stata al master della Fondazione Mondadori, sono qui nell'ufficio a Segrate della Mondadori, quindi è un cerchio che in qualche modo si chiude e in realtà a terreno all'aperto c'è l'opera viva di Francesco Costa che oltre ad essere un autore di fortunatissimi libri per la saggistica di Mondadori, è vice direttore del Post, l'inventore o comunque un grande interprete del fenomeno dei podcast in Italia, li ha portati davvero al successo con le stagioni di da costa a costa, quando ha cominciato Francesco non lo faceva quasi nessuno, adesso ovviamente è un fenomeno molto importante ma Francesco è stato uno degli iniziatori e da poco, da pochissimo è cominciata anche una rassegna stampa critica su, come la definisce lo stesso Francesco, Morning sull'app del Post, lui forse non ve lo avrebbe detto perché non ama farsi pubblicità, lo dico io, è una rassegna stampa interessantissima, io stesso leggo molti giornali, mi capita insomma di leggerli molto presto ma devo dire che ascolto sempre molto volentieri la rassegna di Francesco perché c'è sempre un dettaglio, un particolare, un'idea intelligente che mi è sfuggita. Partiamo con la presentazione direi e allora c'è una mia autrice che mi dice sempre quando non sai da dove cominciare comincia dall'inizio che sembra ovvio ma spesso non lo è. Con Francesco il primo contatto è stato il novembre 2018, novembre 2018 non ci conoscevamo, come spesso mi accade ho scritto una mail all'indirizzo pubblico che aveva a quel tempo e fra l'altro devo dire un collega mi aveva segnalato il suo lavoro, Marco Rana, e aveva già provato a contattarlo, Francesco però in quell'occasione mi ha ringraziato dicendo sì mi aveva già contattato un tuo collega però avevo già detto di no a lui, dico di no anche a te perché io non ho tempo, non saprei cosa dire, non saprei cosa scrivere e non ne voglio sapere. Sono stato più educato di così però scusa. Sicuramente, sicuramente, no no sei molto educato. No scherzavo, scherzavo, il senso era quello non c'è dubbio. Il senso era questo, io che non sono molto intelligente ma sono piuttosto ostinato, ho cercato invece con Francesco, ci siamo incontrati e da quell'incontro è nata Questa è l'America, il tuo primo libro. Un libro che ha avuto appunto, visto che siamo in un luogo in cui è uno spazio anche di riflessione sull'editoria, ha avuto un tempo di gestazione, non lunghissimo ma per molti versi, per il mondo del giornalismo italiano, è un libro che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, è stato il tuo primo volume e che nasce in qualche modo dall'esperienza da costa a costa. È un racconto diverso, però è un racconto sugli Stati Uniti, affronta moltissimi aspetti della vita americana, è un libro, credo che diventerà e lo dico un classico perché è un libro che è davvero senza tempo, lo si legge, l'ho riletto questo fine settimana per prepararmi a questo incontro e devo dire che l'ho trovato ancora attualissimo. E' un libro in cui c'è una selezione di storie e io ti volevo chiedere intanto perché non credevi che, insomma, di poter scrivere un libro, perché non ci avevi ancora pensato, perché non era entrato nel... tu che fai, insomma, sei un innovatore sotto molti aspetti perché appunto nel mondo dei podcast e della rassegna stampa sei sicuramente un innovatore perché lì non ti era ancora venuto l'idea o guizzo di farlo. Bella domanda. Dunque, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Igor, buonasera e grazie al Laboratorio Formentini che ha organizzato questa chiacchierata. Io avevo parlato, mi era capitato di parlare prima che con te e prima ancora con Marco Rana di Mondodori anche con qualche altra persona di altre case editrici con l'idea di ti va di parlare della possibilità di fare un tuo libro, perché alla fine con Da Costa Costa avevo viaggiato tantissimo negli Stati Uniti, avevo raccontato molto l'attualità americana, ma avevo anche raccolto un sacco di materiale che non era legato al racconto dell'attualità, ma più a un approfondimento, che insomma avevo del materiale che non avevo ancora trovato uno spazio, che dovevo mettere in ordine, che poteva effettivamente, insomma, quantomeno legittimare la discussione. C'erano due cose che mi frenavano molto, la terza che è quella del tempo, poi ho capito essere anche un po' un alibi, ma diciamo che le prime due erano le più importanti. La prima era una sorta di vero timore reverenziale nei confronti dell'oggetto libro. Mentre quando provi e sperimenti una cosa nuova, o che comunque hanno fatto fin qui in pochi, apro una newsletter sulla politica e la cultura americana, non è che ci siano molti termini di paragone con cui confrontarti. Se ci sono, ci sono soprattutto, in quel momento erano soprattutto americani, e quindi il fatto che la mia newsletter fosse peggiore delle newsletter americane, che erano di un grande mercato, molto più sviluppato del nostro, lo consideravo parte del gioco, ma se tu scrivi un libro, il tuo libro va a finire in una libreria accanto a un sacco di altri libri, e io mi chiedevo, ma io che cosa ci faccio lì in mezzo, accanto a quei nomi, ma non è falsa modestia. Lo vedevo veramente come una cosa che non credo di essere in grado di fare. E l'altra cosa, e questa è quella su cui poi ho capito, insomma avevo sicuramente molto torto, e tu mi hai aiutato anche a trovare una direzione. Ero convinto, io faccio, ho sempre lavorato, quasi sempre in giornali online. Questi progetti che ho fatto sul piano giornalistico, diciamo per conto mio da freelance, sono una newsletter, un podcast, sono degli esperimenti con quelli che all'epoca, era il 2015, 2016, erano davvero dei nuovi media, per quanto vecchi, la newsletter non è certo un formato nuovo, ma il suo utilizzo in questo contesto era sicuramente nuovo. Cosa faccio? Scrivo un libro? Un libro di carta? Uno di quelli che scrivono, non so, i boomer diremmo oggi. Nel senso, non pensavo che fosse, usando un'espressione terribile, il passo giusto per la mia carriera. Poi però, le conversazioni con te mi hanno aiutato a mettere a fuoco una serie di cose, anche perché, e questo credo che, così entriamo anche un po' dietro le quinte, nella cucina dei libri, sia una delle molte, certamente non l'unica, ma una delle molte funzioni dell'editore, che è aiutare l'autore e l'autrice a trovare una direzione, a immaginare il libro potenziale, anche se magari io non l'ho ancora pensato, ma perché io non faccio questo mestiere e non vedo i libri dove ancora non ci sono. E mi ricordo che ci siamo visti una volta a fare un aperitivo all'Alfrida e ci siamo lasciati con l'idea che io ero ancora sul no, ma ci avrei pensato, ne avremmo parlato. E poi ci siamo rivisti un'altra volta, da un'altra parte, e la cosa però è diventata un po' più concreta, perché grazie alla conversazione, a quel punto per me non stavamo più parlando di un libro, un oggetto, diciamo, mitologico, ma di una cosa che cominciava ad avere una forma possibile, un contenuto. Mi ha costretto, quindi, anche quella conversazione a evitare gli alibi e quindi a dire, ok, ma se io volessi fare un libro che racconta che cosa sono oggi gli Stati Uniti, che cosa è successo agli Stati Uniti che evidentemente non stanno attraversando un momento semplice della loro storia, che cosa dovrei raccontare, cosa dovrei metterci dentro. Tutto partendo dalla premessa che questo è un paese che è grande 33 volte l'Italia, che è più grande della Cina, che ha 320 milioni di abitanti, per cui non esiste l'America. C'è sempre quell'esperienza di chi è stato a New York, torna in Italia e dice, eh, sono stato negli Stati Uniti, e l'amico furbone gli dice, eh, ma New York non è l'America. Allora magari vai in California, torni dalla California, eh, ma la California non è l'America. Però la California cominciano ad essere 40 milioni di persone e soltanto a New York vivono più persone che in 40 dei 50 stati americani. Il punto è che l'America ha un sacco di cose insieme, un sacco di cose diverse messe insieme, a volte contraddittorie, e quindi l'unico modo che ho trovato poi, anche confrontandomi con te, per dare un senso a questo libro, era individuare una serie di storie che fossero in qualche modo esemplari di fenomeni, tendenze, cambiamenti, trasformazioni che hanno attraversato il paese negli ultimi 20 anni, 30 anni, e lo hanno reso quello che è oggi. E quindi questo libro racconta, appunto, tante storie diverse che man mano però che si va avanti risultano anche collegate, legate tra loro e scattano una fotografia all'America dei nostri giorni, poi l'America del 2019-2020, perché appunto poi c'era, io avevo tantissimo materiale raccolto durante tanti viaggi che avevo fatto negli Stati Uniti, però poi la fase di cui tu parlavi di gestazione, di capire quali dovevano essere le scatole del libro, a cosa metterci dentro, come arrivare, con che arco, dall'inizio alla fine, è stato un processo che è durato un po', e insomma mi ricordo che ti mandavo un capitolo ogni volta che lo scrivevo, ci confrontavamo, cambiavamo l'ordine, aggiungevamo un altro, e quindi è stato un vero lavoro di squadra. Però su questo io vorrei sfatare uno dei grandi miti che circonda l'editoria, i miti neri, diciamo, ci sono dei miti positivi, dei miti neri, e cioè che gli editori siano una sorta di grande fratello che sta dietro le spalle degli autori, li condiziona, li fa scrivere quello che ha in mente l'editore, insomma che ci sia una grande cucina editoriale che in qualche modo sforna sempre lo stesso pasto. Non è assolutamente così, nel senso nel caso di Francesco, appunto, lo ricordava lui stesso, noi ci siamo incontrati, io il lavoro più grosso è stato convincere delle potenzialità, e in questo c'è stata una sorta di operazione di maieutica, ma poi il libro, anzi, devo dire che la cosa che mi ha stupito nel tuo lavoro è stata la maturità e la capacità di elaborare, insomma, non c'è stato, c'è stato veramente poco bisogno di lavorare sul tuo libro, e devo dire che questo è una cosa, ovviamente io credo, sono molto convinto che i libri li si impari a scriverli scrivendoli, quindi so che è una forma un po' tautologica, ma in realtà è molto così, quindi al primo libro spesso c'è un maggior bisogno di intervento dell'editore, di guida, di aiuto, perché appunto giornalisti, ma anche comunicatori, anche chi è abituato per mestiere a scrivere e a comunicare magari non è abituato alla forma libro, che è una sua forma specifica, è un mezzo che ha una sua specificità, e quindi ha bisogno in questo dell'aiuto dell'editore, e invece devo dire che nel tuo caso, e non lo dico perché stiamo dialogando, ma lo sai che è una cosa che dico spesso, che ripeto spesso, è che il libro ha preso subito una forma e anche le storie erano storie, non abbiamo scartato, devo dire, non ho trovato materiali che non fossero interessanti nelle cose che mi dicevi, perché c'erano le armi, c'era la questione razziale, c'erano tantissime cose che poi sono le questioni di oggi, di ancora oggi, anche se quel libro era stato concepito sotto una presidenza che veniva vista da moltissimi in modo negativo, la presidenza Trump, e oggi lo leggiamo invece sotto una presidenza verso cui c'è una grande apertura di credito, anche se è appena cominciata, cioè la presidenza Biden. Ma infatti è stato un libro, scusa se ti interrompo, che ha avuto anche un'evoluzione, un percorso in termini poi di penetrazione nel pubblico, diciamo così, di vendite particolare. Intanto è uscito alla fine di gennaio del 2020, io poi sono subito partito per andare negli Stati Uniti a seguire le primarie, sono tornato in Italia che era il 15 febbraio, ho fatto in tempo a fare un paio di presentazioni del libro e poi è successo il patatrack che conosciamo. Da parte mia c'era anche una certa paura e anche potenzialmente un po' una delusione, nel senso che è chiaro che il mondo era investito da problemi molto più grandi del fatto che il mio primo libro fosse uscito durante una pandemia. Però uno, ovviamente, se mi hai mettato un attimo nei miei panni, scrivi il primo libro della tua vita. Speri che vada bene, anche perché poi magari a quel punto speri di farne anche altri, speri che piaccia, speri che sia utile. E quello che succede è che a un certo punto chiudono le librerie. Tutto, potevo pensare, qualsiasi catastrofe, ma non quella. Eppure il libro ha continuato a vendere anche durante quella fase del lockdown, un po' per gli store online, ma anche per le tante librerie che si sono organizzate, col porta a porta, eccetera. E ha avuto una vita lunga, cioè è andato a crescere anche nella seconda metà dell'anno, un po' perché, appunto, come dicevi, tocca alcuni temi che poi in un certo punto sono diventati attuali, dagli incendi in California alla questione razziale, soprattutto poi tra maggio e giugno con l'omicidio di George Floyd, tutto quello che è accaduto dopo, la polarizzazione politica. E in questo io credo anche, però su cui, insomma, tu sei l'architetto di tutto questo e quindi ne sei molto più di me, che la collana a strade blu fosse un po' il posto adatto a questo tipo di libro, perché presentandolo in giro, parlandone in giro, poi molte delle persone che hanno letto questo libro, che leggono i miei libri, per fortuna sono giovani, e quando un giovane si approccia a un libro di saggistica, già soltanto la parola, molti pensano di trovarsi in mano un testo per iniziati, per esperti, non dico un manalo universitario, ma quasi. E perché ci sono dei libri di saggistica che sono così e sono utili del caso che siano così, però ecco, il mio tentativo era usando le storie di utilizzare, non dico le tecniche diciamo della narrativa, però una, non dare niente per scontato, che è una cosa che facciamo molto al posto, utilizzare molto il racconto letterario di una vicenda, di una famiglia, di un'azienda, di una città, per poi allargare lo sguardo e andare oltre, e quindi sì, conoscere più il paese, conoscere un pezzo di mondo attraverso però delle storie raccontate in un modo che fosse efficace sul piano narrativo e questo non è una cosa che si può fare da lettore in tutte le collane della saggistica e certo non si può fare soltanto in Strade Blu, però Strade Blu era proprio il posto su. No, 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 non siamo gli unici, però sicuramente Strade Blu è una collana che permette molto a una, anche una, una, anche una altra metà che è di narrativa in cui sono usciti testi importanti, testi di The Veggers negli anni, quindi insomma è una collana che ha avuto, che ha una vita da Giano Bifronte e sicuramente è molto aperta a quella che insomma chi si occupa di editoria definisce narrative non fiction. Devo dire che nel, sia il posto di saggistica che è il termine corretto che utilizziamo in Italia, utilizziamo, utilizzassimo la semplificazione americana che anche in questo devo dire è molto, è molto chiara, fiction e non fiction, cioè da un lato ci sono i romanzi e dall'altro c'è tutto ciò che non sono romanzi, questo aiuterebbe molto a non spaventare i lettori. E siccome adesso tu hai introdotto un tema molto interessante che è quello del non dare nulla per scontato, che è una cosa che fate anche molto, che direi è la linea del post, le cose spiegate bene per parlare di un fortunato libro che è appena uscito in collaborazione se, corregimi se non sbaglio, se sbaglio, tra il post e iperborea. Corretto. Che è un, insomma, cose spiegate bene, giusto? Esatto, esatto. E in questo caso si parla proprio di libri, quindi chi sta ascoltando questa conversazione in cui parliamo di un po' del dietro le quinte dei libri di Francesco sicuramente ha, insomma, è un libro che apprezzerà sicuramente. E tu fai questa distinzione che secondo me è importante, dire le cose in modo molto chiaro che è una è una componente molto forte nel post ma non è una componente così forte forse nell'essere giornalista perché almeno tradizionalmente lo dico da osservatore ma insomma come un osservatore con una certa una certa esperienza il giornalista italiano più che spiegare bene le cose vuole la notizia è alla ricerca della notizia cioè il giornalismo è la notizia di spiegarlo bene sì mi interessa naturalmente ci tengo poi c'è chi scrive molto bene chi insomma chi ha una che ha una bellissima penna ma non è quello che fa il valore di un giornalista ma lo fa al contrario la capacità di trovare notizie e per moltissimo tempo anche nel giornalismo di stampa anglosassone il giudizio su un giornalista era fatto sulle inchieste cioè cosa aveva scoperto io credo che nei tuoi libri questa cosa si veda molto rispetto rispetto ad altri che hanno un altro tipo di formazione e volevo capire come convivono le tue due formazioni cioè quella di giornalista e quella in qualche modo di spiegare bene le cose che si avvicina molto molto alla divulgazione e anche poi vabbè sulle qualità da narratore è un altro discorso ci sono ma quelle sono insomma si vede che le hai coltivate per insomma su altri campi e non e non nel tuo nei tuoi diciamo così ambiti nel tuo ambito lavorativo quindi mi interessa molto capire come insomma come ti muovi su questi due 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 campi guarda il giornalismo partiamo da una premessa banale ma che va fatta e tante cose diverse la settimana scorsa sono stati assegnati premi Pulitzer e c'è ovviamente il mio rinchiesta gli scoop più importanti vengono riconosciuti e premiati perché il giornalismo è sicuramente innanzitutto quello essendo l'attività di comprensione di quello che accade intorno a noi che sia poi una città un quartiere il governo un paese straniero devi scoprire i fatti devi tirar fuori le cose che non sono note e farle diventare note ma c'è una categoria del Pulitzer che viene data al miglior lavoro di quello che loro chiamano explanatory reporting cioè il giornalismo che spiega le cose perché il rischio è se ti fermi alla notizia che ripeto è la pietra angolare fondamentale ma se tutto è scoprire il fatto e raccontarlo e non lo inserisci nel contesto e non sciogli la complessità che serve per capire perché quel fatto è una notizia quando poi spesso quel fatto riguarda un'azienda delle dinamiche aziendali oppure la politica estera di un paese che conosciamo poco se non spieghi il più possibile tutto quello che sta attorno e quindi le implicazioni di quel fatto a chi legge resta una un'impressione di non aver davvero afferrato l'importanza di quella storia c'è un'altra cosa che succede nel giornalismo e che è la tendenza a dare per scontato che i lettori le lettrici conoscano tutte le puntate precedenti di una storia viene fuori una notizia un arresto importante un colpo di scena ma la gran parte delle persone non conosce le puntate precedenti perché non tutti hanno il tempo di leggere i giornali ogni giorno anche chi ha il tempo di leggere i giornali ogni giorno certo non si li legge dall'inizio alla fine si leggerà le cose che più gli interessano e la cosa che cerchiamo di fare al posto anche per cercare di riannodare un rapporto col pubblico che come sappiamo si è molto allontanato dalla stampa negli ultimi anni è non dare niente per scontato una regola molto banale detta proprio pane e salame che usiamo al posto è spiegalo come lo spiegheresti a tua mamma se non sai e questo tra l'altro è un esercizio molto utile perché nel momento perché è difficile spiegare le cose in modo semplice non è banalizzare devi conoscerle molto bene e ci rompi la testa perché devi provare ad anticipare tutte le possibili domande di chi legge ora è chiaro che questa cosa la puoi fare in un articolo giornalistico in un certo modo in un libro puoi cercare di mantenere questo approccio ma ovviamente è declinato in un modo completamente diverso perché non puoi essere didascalico perché devi tenere l'attenzione di chi ti legge viva e quindi devi mettere un po' di qualità in più nella scrittura scrivere le cose che scrivo che poi vanno a finire nel libro scrivere un libro è l'attività di scrittura più lenta che io faccio in assoluto nel senso che mi rendo conto che ogni parola non può essere la prima che mi viene in mente e a volte in un articolo va bene se è quella giusta se c'entra il punto va bene nel libro devi cercare di essere sul piano della scrittura qualitativamente più pensato e poi devi cercare di dare le informazioni a chi ti legge non come adesso ti faccio lo spiegone ma in un modo che sia coerente col procedere della storia col procedere di quello che stai raccontando insomma non è semplicissimo appunto è una cosa che poi richiede del tempo però la risposta che ho avuto ed era totalmente diciamo appunto un salto nel buio al di là dei feedback vostri come l'avrebbe accolto il pubblico la risposta che ho avuto è stata molto buona soprattutto da parte di un pubblico che anche un po' stereotipicamente stereotipicamente si dirà non lo so non è il contesto ideale in cui fare un errore in lingua italiana questo mi rendo conto però ecco viene associato ai giovani e cioè non leggo nei libri non gli interessa di approfondire e invece per fortuna le persone che molti persone che leggono i miei libri sono giovani e io credo che questo tipo di approccio che non li fa sentire diciamo come che sappiano di meno che non esclude ecco nessuno pur senza risultare di da scalico almeno quello è il tentativo funzioni per catturare un pubblico nuovo all'oggetto libro ecco sicuramente ha funzionato per i tuoi libri e credo adesso lo dico senza avere naturalmente essendo non occupando credo che sia anche alla base di molto del successo del post che è sicuramente un quotidiano online di grande successo ma appunto la storia fortunata di questo tuo primo libro uscito diciamo in un momento molto sfortunato per noi e per l'umanità in generale è stato un libro che ha avuto una vita molto lunga ecco in questo diamo un altro dettaglio di solito i libri quando escono hanno una vita che si giudica molto dalle settimane iniziali poi tendenzialmente i primi sei mesi vengono considerati i mesi in cui il libro vende poi c'è una coda lunga naturalmente ma in cui il libro vende molto meno assolutamente questo è come dire la vita normale di un libro nel caso di Francesco e ce ne sono altri naturalmente è stato invece un approccio molto diverso che in qualche modo noi speravamo perché in realtà poi con l'uscita di Francesco del libro di Francesco siamo andati incontro oltre che alla pandemia alle elezioni americane e elezioni che sono state a novembre che hanno visto la vittoria di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris e qui arriviamo al secondo libro di Francesco che è uscito a gennaio di quest'anno quindi esattamente esattamente un anno dopo e lo vedete qui alle mie spalle è una campeggia campeggia l'hai messo a posto perché dobbiamo fare questa una storia no ne ho molti poi cadono poi io sono molto disordinato quindi non vi faccio vedere diciamo che ho cercato di pulire la mia scrivania per l'occasione ma non so se sono riuscito una storia americana è uscito a gennaio di quest'anno è un libro il sottotitolo è Joe Biden Kamala Harris è una nazione da ricostruire è un libro che racconta ovviamente quello che è successo alle elezioni americane ma non solo racconta l'America del futuro l'America quello che ci dobbiamo aspettare e devo dire che mi è venuto in mente invece senza riguardare il tuo libro ma mi è venuto in mente quello che avevi scritto quando c'è stato molto stupore intorno e qui passiamo invece un pochino all'attualità quando Kamala Harris è stata molto criticata per la sua uscita sui migranti sul fatto sulle sue dichiarazioni adesso poi qui Francesco Correggimi perché vado proprio a memoria sul fatto che non dovessero i migranti non dovevano tentare di attraversare il confine degli Stati Uniti perché questo non sarebbe stato loro permesso e quindi dovevano dovevano rimanere nei paesi di provenienza c'è stata molta critica perché ovviamente sono stati fatti immediatamente delle similitudini con quello che succede qui da noi nel Mediterraneo tristemente però io devo dire non mi sono non mi sono affatto stupito perché questa dichiarazione come molte altre per capire quello che succede oggi l'apertura di Biden al G7 il tentativo atlantico sono nel tuo libro tutto cioè non tutto perché non sei una una veggente ma molto di quello che accade lo possiamo capire io avendo letto la storia di Kamala nel tuo libro ho capito perché lei ha detto queste cose perché è stata la procuratrice e questo devo dire mi ha aiutato molto e volevo capire se questa questa lente funziona per te di di avere una chiave di lettura sul futuro ma sai secondo me poi quanto reggerà lo vedremo questo non è un libro che ovviamente prova come dicevi a prevedere il futuro la mia l'idea da cui sono partito queste due persone per le vite che hanno avuto e per le carriere che hanno avuto hanno incarnano in un certo senso dei pezzi della storia americana dei fenomeni che hanno coinvolto tutto il paese a volte li hanno toccati direttamente a volte sono stati loro a contribuire a innescarli penso al caso di Joe Biden soprattutto che poi tra i due è quello con la carriera più lunga e quindi non solo raccontando alcuni episodi delle loro vite perché non è una biografia io ho scelto alcuni momenti delle loro vite poteva essere utile conosce poteva essere facile conoscerli meglio al di là dei programmi elettorali ma capire chi sono queste persone quali errori hanno fatto in passato quando sono sotto pressione che cosa cosa tendono a fare qual è il modo in cui hanno affrontato problemi simili a quelli di oggi in passato ma anche conoscere meglio l'America in molti casi il racconto di un episodio che ha coinvolto Joe Biden o Kamala Harris è un modo per allargare lo sguardo e parlare di come il razzismo ha modificato la forma delle città americane al punto che è da creare il traffico che vediamo nelle città americane il sistema sanitario l'aumento della criminalità tra gli anni 70 e gli anni 90 in una certa parte ancora inspiegabile e tutto questo provare a metterlo insieme per provare a capire il futuro e per esempio Kamala Harris ha una vita una carriera che sono fatte di molte contraddizioni di un tentativo di costante equilibrismo nel dover gestire le molte aspettative che ha sempre avuto su di sé non fosse altro che quasi qualsiasi incarico che ha fatto lo ha fatto come prima donna e prima donna non bianca e le sue idee politiche la sua carriera da procuratrice il desiderio di cambiare le cose dall'interno e quindi di non essere espulsa da un sistema che comunque la considerava e la considera tuttora un corpo estraneo ed è vero che questo aiuta a vedere le dichiarazioni che ha fatto sui migranti al di là del fatto di essere d'accordo o no ma aiuta a capire da dove vengono ma anche nel caso di Biden avere visto anche sui giornali anche sui giornali italiani tra l'altro tutto questo discorso sul fatto che Biden abbiamo scoperto essere più di sinistra di quello che pensavamo ho letto anche degli articoli che dicevano persino Enrico Letta il nuovo segretario del PD che ha fatto qualche proposta un po' la tasta di successione eccetera si è ispirato a questo nuovo corso radicale di Biden e una delle ultime cose che scrivo nel libro nell'ultima pagine del libro ma di nuovo non perché abbia dei poteri divinatori ma perché si vedeva stava già succedendo non solo il Partito Democratico si sta spostando a sinistra e quindi era plausibile ma molti presidenti americani che hanno fatto delle cose radicali non erano dei radicali ma erano e cito alcuni esempi da Roosevelt a Lyndon Johnson erano dei pragmatici anche con la fama di essere dei moderati dell'establishment arrivati però al potere in un momento straordinario come è questo evidentemente avevano capito che servivano azioni straordinarie e io non dico nel libro Biden farà così ma dico nell'ultima fase della campagna elettorale Biden ha fatto più cose che lasciano pensare che quello sia il modello di presidente a cui vorrà ispirarsi e poi Biden diventa presidente fa questa mega legge di spesa su 1900 miliardi di dollari adesso ne propone 6000 miliardi non è che è diventato improvvisamente un grande rivoluzionario socialista però non è sicuramente il moderato centrista immobile che alcuni descrivevano durante la campagna elettorale il tentativo è provare a capire che cosa succederà appunto non leggendo i programmi elettorali ma scavando nel carattere delle persone il modo in cui ho provato a farlo è stato facendo una montagna di ricerca anche perché poi questo è un libro che è nato durante la pandemia e quindi anche in un momento in cui spostarsi era praticamente impossibile non ci si poteva spostare tu hai utilizzato benissimo il tempo scrivendo scrivendo il tuo secondo libro invece di fare il pane dice frigge e invece di fare il pane che è un'attività insomma i panettieri andavano aiutati e soprattutto erano tra le poche attività aperte quindi perché non comprare non comprare il pane e Joe Biden e Kamala Harris sono appunto due figure emblematiche dell'oggi statunitese anche se ovviamente essendo vicepresidente Kamala Harris è in un momento maggiormente in ombra soprattutto sui sui media italiani è più difficile scorgerla dietro dietro le mosse di Biden ma anche per questioni anagrafiche io credo che insomma Biden magari difficilmente potrà puntare a una seconda presidenza e quindi la scelta di Kamala in questo come rilevavi tu era significativa e forse molto più significativa di quello accaduto con la presidenza Obama che insomma è diventato presidente molto giovane o altri presidenti che non avevano non avevano la stessa età di Biden quando sono entrati alla Casa Bianca vogliamo raccontare qualcosa dei tempi perché prima l'ho alluso e in realtà secondo me questa è una domanda che mi fanno sempre nelle presentazioni va bene allora parliamo dei tempi parliamo dei tempi questo è un contesto scusami se no 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 perché a me interessa sempre la politica americana quindi cerco sempre di scelta per avere delle previsioni ma no perché quando l'hai scritto me lo chiedono sempre ma quando l'hai scritto ma sapevi che avrebbero vinto e se non vincevano che avresti fatto buttavi il libro ne scrivevi un altro ne abbiamo scritti due questa è la verità uno per Trump uno per Biden allora intanto posso dire che è capitato che uscissero dei libri e altri venissero fermati in stampa perché la previsione e questo lo dico per Mondadori ma è successo anche anche ad altre case editrici anche a colleghi di altre case editrici che si facessero libri su previsioni sbagliate cioè questo questo poteva poteva essere potrebbe essere successo e non ci sarebbe nulla di male il libro solitamente esce incontra meno fortuna di quella che l'editore l'autore avrebbero sperato naturalmente e però non succede nulla il caso di Francesco invece è un po' diverso perché ovviamente noi dopo quei primi incontri così rarefatti non ci siamo più incontrati in realtà dal vivo però abbiamo fatto fra l'altro una prima presentazione così online come questa e spero che questa ancora online sia l'ultima a chiudere il periodo dell'online e spero che potremo tornare tutti come Francesco fra l'altro ha già fatto e controllate le date sul suo sito ha già fatto dal vivo ma in realtà questo non è il caso perché noi ci siamo sentiti durante durante tutta la pandemia non ci siamo non ci siamo riusciti a vedere ma ci sentivamo abbastanza spesso perché perché questa è l'America stava andando molto bene e perché stavamo ragionando una delle cose che fa un editore è sempre immaginare una volta che si chiude la copertina che è questa vi faccio vedere una bozza che avevo in ufficio ancora ho recuperato questa è una è una bozza di come si chiama digitale ed è quello che di solito io firmo per mandare in stampa qui c'era c'era un sottotitolo diverso era Joe Biden e Kamala Harris l'ambizione del cambiamento che poi abbiamo abbiamo si lavora sui libri fino all'ultimo quindi questo questo sottotitolo l'abbiamo cambiato abbiamo cambiato poche ore prima di andare in stampa e no nel senso questo è il caso di Francesco in questa cosa è stato diverso perché ci siamo sentiti abbiamo lui a un certo punto mi mi ha detto anche per le cose che stava facendo gli approfondimenti che stava facendo con da costa a costa che Joe Biden e Kamala Harris era un tandem che insomma aveva aveva delle grandi delle grandi possibilità e e niente abbiamo cominciato a parlare di un di un di un possibile di un possibile libro anche se poi in realtà come dire quando siamo partiti Francesco io durante l'estate come appunto come raccontavi come dicevo prima ho cominciato a pensare che questa cosa poteva essere un libro che questa storia che questi due effettivamente potevano essere anche un modo per raccontare qualche altro pezzo degli Stati Uniti è chiaro che però l'interesse verso questi due è un tot se questi due diventano presidente e vicepresidente se non lo diventano io magari può essere comunque utile parlare di come sta cambiando l'America ma insomma perché devo capire chi è Biden che ha appena concluso la sua carriera con una umiliante sconfitta da Trump quindi quello che ha fatto è stato cominciare oltre che a parlarne con te e insomma è cominciare a ragionare insieme a leggere studiare ho letto tutti i libri che ha scritto Biden i due che ha scritto Kamala Harris per fortuna due ne ha scritti di meno ma Biden ne ha scritti molti di più fare qualche intervista con qualche collega americano che ha seguito certi pezzi delle loro carriere rivistare negli archivi dei giornali immaginare quale potesse essere appunto l'arco di questo eventuale libro provare quindi a capire che cosa volevo raccontare dove volevo andare a parare e arrivare con hai presente nei film gialli o nelle serie tv dei detective che poi hanno quella parete con le foto le mappe le frecce non ce l'avevo a casa perché sennò la mia fidanzata mi avrebbe sfrattato però sul computer avevo un sacco di ritagli di appunti di copia e incolla con l'idea che queste cose qui potevano essere pronte per diventare un libro qualora Biden e Harris avessero vinto le elezioni sapendo anche forse non so se in cuor mio diceva beh se perdono Amen vuol dire che non scrive il libro in realtà poi Biden e Harris vincono le elezioni e noi che appunto ci cominciamo a sentire un po' freneticamente per capire che questa cosa se bisognava farla bisognava farla subito decidiamo di farla io ricordo la conversazione in cui abbiamo deciso di farla davvero eravamo al telefono io, tu e Chiara Melloni dell'agenzia Sose Pistoia che è la mia gente che mi fa un certo effetto dire che è la mia gente ma in realtà è un'amica e mi dà una grossa mano e l'abbiamo fatto di fatto questo libro senza esserci mai incontrati di persona ma soltanto in videochiamate telefonate mail e a quel punto mi sono messo a scrivere mi sono messo in ferie dal post per un mese tanto le ferie estive quasi non le avevo fatte non è che c'erano abbiamo grandi posti in cui andare mi sono messo in ferie e non ho fatto altro perché tra l'altro in zona rossa non si poteva uscire non si poteva fare nulla dovevo stare a casa e quindi non ho fatto altro a parte dormire e mangiare che scrivere questo libro che ho consegnato il 23 dicembre se non sbaglio finito ma in realtà come era stato per questa l'America ogni capitolo veniva appunto lo mandavo a te ne parlavamo capivamo che cosa funzionava che cosa poteva essere sistemato e quindi devo dire io ho avuto anche a un certo punto te lo ricorderai il timore che per quanto su questo libro alla fine ci avessi lavorato poi molto nella parte di ricerca praticamente quasi per sei mesi che apparisse come un instant book e quindi dopo il successo di questa l'America si è inventato come si dice svacca e ci dà un numero di 30 pagine esatto poi si inventa una roba eccetera e in questo insomma parlarne insieme è stato utile anche per poi alla fine lo volevo fare l'ho fatto l'avrei fatto in ogni canno nel senso chi se ne frega che venga percepito come un instant book però ecco anche l'interfacciarmi con un editore aiuta su questo fronte su un numero di battute a un certo punto dici Francesco però ho capito che il numero di battute è esattamente insomma quasi adesso non mi ricordo quale sia la differenza ma insomma il libro è venuto di 200 pagine perché poi noi editori ragioniamo sempre prima in battute e poi in cartelle ma è un vizio insomma quasi mai guardiamo poco più breve di questa l'America quasi mai guardiamo poi le pagine del libro stampato è venuto un libro molto lungo e molto complesso e molto stratificato per tutto il lavoro che c'era dietro che ovviamente poi non è solo il lavoro né di quel mese di scrittura né di sei mesi di ricerca ma è il lavoro di Francesco sugli Stati Uniti che stava portando avanti da molti anni e devo dire che però appunto visto che stiamo raccontando i tempi c'è stato anche una forzatura ecco io questa cosa che hai svelato adesso mi porterà tutti mi chiameranno dicendo allora dobbiamo fare il libro anche ti do il libro oggi e usciamo fra tre settimane ecco no abitualmente questo lo dico sempre perché immagino che ci sia un pubblico anche di anzi ci sono degli studenti del del master un libro tendenzialmente almeno qui in Mondadori dalla chiusura del pdf che già prevede due mesi di redazione prima la redazione la nostra redazione che fa spesso miracoli e salti mortali ci chiede il libro due mesi prima della chiusura del pdf e da quando si chiude il pdf ci sono cinque settimane prima di arrivare nelle librerie che è il tempo della stampa e della distribuzione ovviamente è un tempo che comprimibile per 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 molti molti aspetti nel caso di Francesco è stato davvero fatto un miracolo da parte della redazione che ha lavorato non solo durante le feste ma abbiamo lavorato tutti durante le feste Francesco in primis ma anche molti nostri valenti collaboratori e e la redazione e l'ufficio grafico abbiamo tutti lavorato moltissimo perché poi in realtà abbiamo anche deciso non contenti dell'averlo fatto in insomma di averlo messo in macchina molto velocemente abbiamo deciso di uscire anche il giorno il giorno dell'insediamento quella settimana adesso non ricordo prima il 19 il 19 non ricordo quando fossero Mondadori esce nelle librerie tutti i martedì quindi era costretto a uscire il martedì il martedì 19 il giorno prima dell'insediamento che è stata poi in realtà una scelta molto giusta e qui devo dire mi hanno dato una mano i colleghi dell'ufficio stampa della comunicazione mi hanno detto beh non possiamo mancare questo appuntamento e io dico ma non abbiamo tempo il tempo è già almeno dovevamo uscire credo intorno adesso ho qui davanti a me un calendario il 9 insomma intorno alla metà di febbraio però mi ricordo quando l'ho detto ho annunciato il tuo libro ai colleghi della comunicazione non è possibile se ti perdi quell'occasione sei veramente l'ultimo dei di quelli che si dovrebbero occupare di teoria diciamo così in realtà poi è stata una scelta giusta perché il libro ha avuto un eco molto importante in quei giorni Francesco è stato invitato ovunque per le sue competenze a parlare del libro ma anche perché aveva a parlare delle lezioni scusate ma anche a parlare in quel caso si promuove avere il libro con sé aiuta e il libro ha avuto una una straordinario successo la prima settimana di uscita ha venduto lo dico perché sono numeri ufficiali certificati più di 8000 copie nella prima settimana che è veramente un risultato incredibile e straordinario e ha poi proseguito ha una vita sta avendo una vita molto fortunata perché appunto è un libro che non si concentra solo sulle elezioni ma racconta molto chi sono sicuramente una delle persone insieme a Xi Jinping e forse a Putin e la cancella di Merkel più importanti e che prendono le decisioni più importanti del mondo e una persona che sta a fianco a Biden e che insomma potrebbe essere chiamato in futuro a sostituirlo io se sei d'accordo Francesco magari visto che sono un quarto alle otto aprirei lo spazio alle domande che insomma avevamo ci sono collegati degli studenti del master che penso ci vogliono fare delle domande spero siano per Francesco ma nel caso siano per me risponderemo molto volentieri e allora parto io con una domanda un po' per tutti e due e una prima delle nostre curiosità era su appunto sul lavoro di ricerca e se appunto l'intenso lavoro di ricerca per questo tipo cioè per questo libro nello specifico ma in generale anche per questo tipo di inchieste è in carico solamente all'autore o se comunque c'è un supporto dalla casa editrice o dall'editor Buon dare tu vado io no e allora il grosso della ricerca è meglio in questo caso poi Igor sicuramente saprà dire in generale in questo caso l'ho fatto io anche perché poi era una ricerca giornalistica che io ho fatto anche per appunto nel caso del primo libro per da costa a costa viaggiando io direttamente negli Stati Uniti o per questa campagna elettorale per le altre cose che facevo per il post lì la cosa in cui è molto utile il ruolo dell'editore è che ti sa indicare i punti bui di un testo anche sul piano delle informazioni dei documenti quelli che tu non vedi più una volta che lo hai scritto dove serve io dico che sta accadendo una cosa negli Stati Uniti ma magari serve indicare un dato una fonte una un appoggio al di là della bibliografia ma ancorare le affermazioni fattuali a qualcosa di più preciso ed è una cosa che poi ti costringe allora aspetta vado a cercare i dati andiamo a vedere se effettivamente cominciò in quell'anno o il decennio prima in questo per me è stato molto utile il ruolo dell'editore ma il grosso della ricerca in questo caso l'avevo fatto io sì senza dubbio no il ruolo dell'editore in questo non non fa nulla cioè il contenuto per me deve essere portato dall'autore anche perché qui lavorano come altre due persone alla saggistica ma nessuno di noi è esperto in un campo particolare quindi Francesco ha portato il suo bagaglio di notizie di esperienze di cose che sapeva di cose che aveva scritto e il lavoro nostro poi appunto un lavoro di controllo di redazione di se pensiamo più al mio lavoro di di dialogo con l'autore sul sul montaggio sui temi ma non certo sul lavoro di ricerca quello quello è in capo totalmente all'autore per fortuna lo fa lo fa lo fa molto meglio di quanto l'avremmo potuto fare noi grazie proseguo io anzitutto ci tenevo a dire che mi fa molto piacere essere qui a dialogare con voi quindi grazie anche la mia domanda è un po' per entrambi diciamo prima più per l'autore e la seconda parte un po' più per l'editor ci interessava sapere qual è stato il divaro più grande che Francesco hai riscontrato nel passaggio dallo scrivere un podcast allo scrivere poi il primo libro perché immagino che più si prosegue insomma nella scrittura di un podcast più si sa di rivolgersi a un pubblico sempre più fidelizzato magari con il libro invece ci si pone il problema di rivolgersi a un pubblico potenzialmente nuovo e poi quali sono le principali differenze a livello di editing perché è una cosa che diciamo anche spesso nei nostri vari corsi è l'importanza che il podcast assume sempre di più nel mondo editoriale e anche appunto l'editing a livello di podcast ha un ruolo sempre più preponderante e chiave quindi quali sono le fondamentali differenze riscontrate in questi due ambiti e infine una domanda così un po' più curiosità personale adesso che hai provato un po' tutti i tipi di scrittura possiamo dire da quella podcastica per usare un nuovo termine a quella giornalistica a quella del libro se ti senti particolarmente più affezionato legato congeniale ad una o un'altra o se insomma non hai preferenze allora differenze ce ne sono tantissime e sai secondo me non è non è scuso se ti do del tu ma diamoci del tu anche nelle domande risposte insomma con grande tranquillità non è secondo me tanto almeno per la mia esperienza nel tipo di pubblico nel senso che anche quando scrivo scrivo gli episodi della costa a costa io sapevo che della costa a costa aveva un pubblico insomma affezionato eccetera ma non era nemmeno un pubblico così grande che dicessi ho già raggiunto tutte le persone che posso raggiungere e cercavo sempre di mettermi nei panni di qualcuno che si imbatteva in quell'episodio per la prima volta e non volevo che si sentisse appunto escluso è entrato in un mondo di cui non conosci il linguaggio se non parti dall'inizio lì la cosa che ho avvertito di più è proprio una differenza di scrittura e questo secondo me poi si attaccherà forse a quello che potrà raccontarti Igor la scrittura di un testo che sarà ascoltato è molto diverso dalla scrittura di un testo che sarà a letto e io me ne sono accorto un po' facendolo ma un po' quando sono andato in sala di registrazione a registrare l'audiolibro del mio primo libro questo è l'America e mi sono reso conto che alcune cose che sulla pagina scritta funzionano non so gli incisi il fatto che tu possa posizionare parlare di dati in un certo modo nel momento in cui tu lo ascolti gli incisi non sono sempre così chiari i dati devi presentarli in un certo modo nell'ascolto tu devi essere chiaro chiara al primo colpo non è che puoi rileggere una frase se ti ha colpito o se non l'hai capita un'altra cosa nell'ascolto si tende a ripetere molto è utile ripetere molto nell'ascolto perché le persone si dimenticano i nomi devi ricordare sempre le coordinate di dove sei nel libro invece la lettura ci permette di memorizzare meglio e quindi è proprio uno stile di scrittura diverso io ho una scrittura orale diciamo perché poi è lo stile che abbiamo al post e quindi sono stato il formato al post però ecco è proprio una scrittura diversa e per me quella del libro come dicevo prima molto più esigente che una parola sia stampata sulla pagina insomma gli è richiesto qualcosa in più secondo me sì io ti rispondo diciamo che non conosco l'editing che si fa sui ho visto dei test di podcast scritti non di Francesco perché poi con lui non abbiamo mai lavorato a libri tratti da podcast ma mi è successo di vedere di vedere dei testi e devo dire che la differenza è sensibile nel senso che c'è una c'è un'immediatezza anche in testi molto scritti per cioè in testi completamente scritti per i podcast devo dire che poi difficilmente molto difficilmente reggono la pagina perché senza la voce c'è spesso la ripetizione a cui diciamo tradizionalmente in Italia leggendo da molto fastidio è una cosa su cui lo saprete anche voi facendo il corso insomma si fa molta attenzione nella resivisione dei testi affinché non ci siano affinché non ci siano le ripetizioni quando quando si vede una parola su più righe ripetuta tendenzialmente si cercano si cerca un modo per evitare che si ripeta quindi e poi c'è una secondo me il testo scritto permette di essere la pagina scritta più esaustiva si possono raccontare più cose poi delle volte si diventa si divaga troppo ci si perde invece secondo me l'esperienza di scrittura del podcast Francesco ha giocato molto all'incisività dei suoi testi scritti però appunto io non ho mai letto niente di che Francesco abbia scritto per un podcast però credo che siano ambiti molto diversi scusate non ho risposto alla domanda su quale delle due diciamo preferisco il podcast mi viene più naturale ma perché è una scrittura più facile secondo me mentre invece la scrittura del libro è molto più impegnativa e quindi la faccio con più fatica poi non vuol dire che non mi piaccia però ecco la scrittura dei podcast è una scrittura più semplice almeno per me grazie grazie a te c'è forse grazie grazie mille ciao Marco aspettiamo la tua domanda la mia domanda era sul tuo progetto giornalistico Francesco che ancora prima del libro quindi la tua newsletter il podcast e che poi ha portato alla scrittura dei due libri il tuo di fatto è un progetto individuale cioè a parte il tuo lavoro al post la newsletter del podcast è sei tu che fai quel lavoro e mi sembra la tendenza che sta prendendo piede negli ultimi anni soprattutto nel giornalismo anglosassone cioè del giornalista che non per forza giovane però magari dalla redazione del Washington Post e del New York Times prende si fa il suo progetto la sua newsletter eccetera in Italia mi sembra che ancora non è così però forse pian piano sta prendendo piede io ho in mente pochissimi nomi mi viene in mente Francesco Maselli sulla Francia oppure ma anche Mario Calabresi credi che sia una strada percorrida cioè credi che sarà una tendenza sempre più diffusa e anche più rinnovante nel panorama giornalista italiano io credo che che piaccia o no sarà una tendenza sempre più diffusa poi non credo che raggiungerà le dimensioni del fenomeno americano perché lì c'è proprio un mercato editoriale giornalistico molto più ampio ci sono molte più persone che comprono che pagano abbonamenti a newsletter per loro è molto più facile spendere soldi non per dire una banalità sono gli americani ma gli americani come sapete spendono ci sono newsletter americane di persone che nessuno in Italia ha mai sentito che hanno centomila abbonati che pagano cinque euro al mese fatevi due conti diciamo e quindi quelle persone lì sono in grado di guadagnare molti più soldi di quanto possa dargli anche il New York Times e molti in un momento in cui tra l'altro le aziende editoriali sono in difficoltà e quindi a volte licenziano anzi spesso licenziano capiscono che se riescono a trovarsi un pubblico di duemila persone che paga cinque dollari al mese e comincia a mettere insieme dei soldi che magari ti permettono anche di prenderti una persona che ti dà una mano o un editor per esempio che ti riveda le newsletter o i podcast o quello che tu stai facendo credo che con la difficoltà delle aziende editoriali e col fatto che anche qui che ci piacciono non lo cito come un cambiamento positivo per forza o per certi versi sicuramente è negativo ma i social media tendono a mettere al centro dell'attenzione delle persone altre persone più che testate brand eccetera sia relativamente semplice per un giornalista o una giornalista che ha delle cose da dire costruirsi un suo pubblico che non sarà mai grande come il pubblico del grande quotidiano ma che crea con quella persona lì un legame a volte più forte di quello che crea col grande quotidiano ed è un legame che poi si può trasformare per esempio in subscription eccetera quindi credo che questa tendenza ci sarà anche in Italia ovviamente più lenta più piccola qual è il problema che non è diciamo tutto rosa e fiori io questo lavoro l'ho fatto nel tempo libero perché mi andava di fare una cosa che fosse mia mi andava di fare un po' di esperimenti e anche quindi di sbagliare di fallire senza mettere in mezzo il giornale il direttore eccetera però a me manca quando faccio da costa a costa il rapporto con la redazione perché a me migliora infatti la mia domanda scusa se ti interrompo era proprio questa cioè non è che si perde poi il lavoro di gruppo che nel giornalismo penso sia fondamentale cioè il lavoro redazionale delle persone guarda si perde moltissimo una delle ragioni per cui poi da costa a costa ha avuto anche il successo che ha avuto è che per esempio su tutta la parte di podcast io l'ho fatta con Carlo Annesia che poi è il responsabile di Piano P ed è stato per me una sorta di editor del podcast è la persona con cui mi sono confrontato su tutte le scelte di da costa a costa sia quelle di modello di business ma soprattutto quelle editoriali su cosa facciamo alla prossima puntata poi la puntata la facevo io e lui si occupava della produzione ma per me avere quel tipo di confronto mi ha fatto fare un sacco di scelte col senno di poi giuste ma qui non sarei arrivato se non avessi parlato con Carlo se moltiplichi questo nel lavoro di una redazione per me è insostituibile ma non solo perché è bello mangiare coi colleghi e fare due chiacchiere ma perché nel confronto attorno alle cose che si fanno nascono idee scopri che un pensiero che hai detto a voce parlando con un collega può essere un pezzo può essere un post un blog e quindi sicuramente c'è un trade off e c'è un trade off anche in termini di cura del lavoro forse non è il caso dei giornali italiani però nei giornali americani ci sono i fact checkers ci sono degli editor bravissimi e bravissime se tu ti fai la newsletter da solo o da sola sei insomma sei molto più sguarnito su quel front diciamo che forse scusa poi concludo magari io penso a quei pochissimi giornalisti tra cui te che conosco in Italia che fanno questo hanno a parte il lavoro tu al post citavo Maselli che comunque lavora al foglio quindi hanno anche c'è l'esperienza di gruppo della redazione quindi magari forse il problema si può andare di più quando sarà il giornalista la persona singola che decide di buttarsi in un progetto singolo da solo nella cameretta in quel caso magari insomma si perderà un po' di lavoro giornalistico sul campo ma soprattutto poi di comunità guarda secondo me è che chiudo anch'io così poi lasciamo la parola alle altre domande se ci sono questo può essere un'ottima strada per chi vuole entrare nel mondo del giornalismo che è un mondo in cui l'accesso è oggi super problematico è inutile sperare di farsi notare mandando un curriculum via mail purtroppo il modo migliore per farsi notare è farsi notare col proprio lavoro e quindi se tu hai fatto un canale YouTube sulle criptovalute è una newsletter sulla politica del Medio Oriente cioè se tu sei riuscito a prendere un tema interessante e rilevante e raccontarlo in un modo che poi trova un suo pubblico anche piccolo ma poi nella nicchia dei giornalisti le cose di qualità circolano è un ottimo modo per farsi notare poi magari a quel punto diventare un redattore degli esteri di un giornale ma il tuo biglietto da visita non è il tuo curriculum e io ho fatto questo e questo secondo me è un è un potenzialmente un asset io non aggiungo nulla alle parole mi sembra perfette di Francesco se non appunto che dalla cameretta nasce poco nasce moltissimo invece dalla mediazione mediazione editoriale mediazione culturale nel campo appunto del laboratorio ma anche del lavoro di Francesco con Piano P per quanto riguarda il podcast io credo moltissimo nel lavoro di mediazione essendo io un mediatore ma credo che sia ancora molto utile e direi che forse passerei la parola a Costanza se abbiamo se siamo in chiusura sì io direi che siamo in chiusura non credo ci siano altre domande io vi ringrazio moltissimo per essere stati qua qui con noi è stato davvero un incontro molto interessante e niente io vi do appuntamento sempre per il prossimo lunedì alle 19 e grazie a tutti e a presto grazie a voi grazie a voi grazie a Francesco grazie a Costanza grazie a tutti buonasera ciao grazie buonasera grazie a tutti